Ho denunciato in aula, proprio in apertura dell'ultima sessione plenaria di Strasburgo, l'incresciosa situazione delle baracche di Messina e ho presentato una interrogazione urgente alla Commissione europea chiedendo eventuali interventi in via straordinaria, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria che si è sviluppata nei quartieri dove 6.400 persone vivono in situazione di estremo degrado a ben 110 anni dal terremoto. Lo dichiara Michela Giuffrida, deputata europea del PD, che nei giorni scorsi è stata a Messina per acquisire notizie ed atti che riguardano gli abitanti dei sette rioni messinesi dove oltre 2.000 nuclei familiari vivono ancora oggi in baracche fatiscenti. Gravi inadempienze, interventi e piani di risanamento mai attuati hanno fatto sì che l'emergenza, una volta derivante al terribile terremoto del 1908, duri ancora oggi e che anzi si aggravasse. Quelle baracche, afferma Giuffrida nella sua interrogazione, dove si vive senza fognature, circondati da rifiuti in assenza di qualunque misura di sicurezza, hanno il tetto di amianto, sostanza micidiale, vietata dall'Unione Europea già 20 anni fa perché cancerogena. E infatti la terribile novità, denunciato la Giuffrida nell'aula dell'Europarlamento, è che adesso ci sono persone che si sono ammalate di absbestosi, micidiale malattia incurabile, che consume i polmoni di chi respira particelle di amianto come quelle disperse nell'aria dai tetti di Eternit logorati dal tempo. Giuffrida nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che con un'ordinanza ha disposto allo sgombero di tutte le baracche. Al momento però non ci sono alloggi popolari per tutti e per questo è necessario e non più differibile un tempestivo intervento del governo ragionale e di quello centrale.